Raffaello Betti, direttore della Col Diretti, con lui vogliamo parlare del settore che rappresenta relazionandoci a questa realtà che è sempre più in difficoltà, quella di un'Italia che ha bisogno dell'aiuto della politica, del governo. Sì, purtroppo il settore agricolo quest'anno ha avuto forse una delle peggiori annate degli ultimi 20 anni perché oltre alle difficoltà generali che hanno anche tutte le altre imprese, quindi questo eccesso di rincari dei prodotti energetici, dei prodotti anche legati all'agricoltura in senso generale, quindi le materie prime, il legno, il ferro, le concimazioni e tutta una serie di altre cose che hanno avuto aumenti che vanno dal 200% fino al 80-90% e che mettono ovviamente in seria difficoltà anche proprio le nostre aziende. In più noi purtroppo abbiamo avuto altri seri problemi a partire dalla siccità del 2022 che è una di quelle più serie che abbiamo visto e vissuto in questi ultimi anni, per poi parlare di quelli che sono stati anche i grossi problemi che abbiamo avuto con queste ultime avversità atmosferiche di bombe d'acqua e grandine che hanno distrutto le coltivazioni in alcune zone della provincia. Quindi siamo veramente in un momento complicato e difficile della nostra attività economica. Forse era il momento peggiore per andare alle urne e far cadere un governo? Direi di sì, anche perché in questo momento soluzioni che possiamo mettere in campo anche per alleviare l'autunno caldo che arriverà, sono soluzioni importanti in cui vanno prese delle decisioni serie da parte del governo per in primis aiutare le imprese ad evitare che ci siano veramente degli aumenti dei costi che poi non sono sostenibili e quindi creino anche davvero difficoltà serie per arrivare al livello di rischio di chiusura di alcune delle nostre aziende. Io credo che ci sia necessità da parte di chi dovrà riorganizzare comunque ad organizzare il governo nei prossimi cinque anni, di parlare in maniera importante con la rappresentanza delle imprese e anche con la rappresentanza dei lavoratori e fare davvero veramente un patto di rilancio della nostra economia che rischia di essere veramente messa in grande difficoltà.